Cybercaos, oggi down informatico in tutto il mondo, in tilt, aeroporti, treni, banche e media per una falla nel sistema Microsoft esclusa, l'ipotesi di un attacco hacker. Italian Maritime Economy, undicesimo rapporto annuale di SRM, nel 2023 le car carrier registrano un incremento del 150% dei traffici d'alfariste. Italia guidata dal gruppo Grimaldi nella leadership in Europa e nel Mediterraneo dello short sea shipping. Presidenziali USA, Donald Trump, riporterò il sogno americano e la pace nel mondo, oggi la telefonata con Zelensky, più vicino il ritiro di Biden a favore della vice Harris. Ondata di attacchi UTI, droni su Tel Aviv, proiettili su una porta a container a largo dello Yemen, crolla il traffico navale nel canale di Suez a maggio, meno 53,6% anno. Strage di Via D'Amelio, oggi il 32esimo anniversario dell'attentato al giudice Borsellino. Mattarella, la verità è un dovere irrinunciabile. Meloni, lotta alla mafia, priorità assoluta. Buonasera. Cybercaos a livello globale, davvero forti le ripercussioni dei guasti informatici su larga scala che nella giornata di oggi hanno mandato in tilt aeroporti, ferrovie, banche, borse e media in tutto il mondo. Esclusa sin da subito l'ipotesi di un attacco hacker. Il Down è stato infatti causato da un errato aggiornamento software di CrowdStrike, un programma utilizzato da molteplici aziende e amministrazioni per prevenire attacchi informatici che ha indotto malfunzionamenti dei sistemi Microsoft in ginocchio, in particolare i trasporti aerei. Oltre 3.000 voli cancellati in tutto il mondo, diverse decine anche in Italia. Diverse le criticità segnalate nel nostro paese che hanno coinvolto anche piazza affari. Poco colpite invece le principali banche italiane che hanno potuto assicurare livelli ordinari di operatività. Proprio per valutare gli effetti causati dal tilt informatico del software CrowdStrike e per garantire adeguato supporto agli operatori italiani danneggiati si è riunito nel primo pomeriggio il nucleo per la cibersicurezza nazionale. Ma veniamo ora ad un importante appuntamento che si è tenuto oggi a Napoli. Nel corso dell'Italian Maritime Economy Conference 2024 è stato presentato l'undicesimo rapporto annuale del settore curato dal Centro Studi SRM, intesa San Paolo. Il libro bianco sull'economia marittima a livello globale ha rivolto anche questa volta uno sguardo privilegiato all'Europa e all'Italia che ancora non riesce ad emergere in questo ambito nonostante la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo. Abbiamo grandi paesi competitors davanti che sono poi anche i nostri competitors commerciali e questo ci dà veramente l'indicazione sul fatto che il paese nonostante il suo posizionamento deve fare uno sforzo in più in termini di investimento nelle infrastrutture perché questa differenza è un gap che poi si misura sostanzialmente nei tempi di attesa delle navi nei porti che sono in Italia leggermente più alti della media. È il tempo e denaro per gli operatori e per il commercio. Ma veniamo ai dati. Tira il traffico delle car carrier che nel 2023 rispetto all'anno precedente vede crescere i propri traffici dal Far East all'Europa del 150%. L'Italia poi grazie al gruppo Grimaldi leader mondiale del traffico rorò segna la leadership in Europa e nel Mediterraneo dello short sea shipping e nel nostro paese tira anche il traffico passeggeri in crescita del 16%. Ma c'è un tema che ancora emerge sia dallo studio di SRM sia dalle analisi degli imprenditori del settore. Le politiche europee per la decarbonizzazione con tassazioni e obiettivi temporali insostenibili rischiano fortemente di condizionare la crescita del comparto marittimo. C'è il von der Leyen bis. L'Europa insomma sul trasporto marittimo c'è qualcosa che non va con le TS con tutta la tassazione. Le pensa che il secondo ciclo possa portare delle trasformazioni? Se il primo ciclo è stato estremamente ideologico spero che il secondo sia estremamente pragmatico. E per quanto riguarda le ipotesi ormai paventate dall'Europa dei dazzi nei confronti della Cina una politica giusta oppure una politica miope? In una filiera lunga così come viviamo nella componentistica piuttosto che nello scambio di merce e di beni sono provvedimenti estremamente temporanei, non hanno una valenza di medio e lungo termine. Io credo che questi dazzi dovranno essere, a meno che non abbiamo vocazioni suicide in Europa, dovranno essere rimossi presto e ridotti. Perché è vero esattamente il contrario, che noi esportiamo un numero enorme di macchine termiche in Cina che vanno a creare semmai emissioni, mentre loro ci stanno vendendo delle macchine pulite che emettono molto di meno e che sono anche molto più economiche. Quindi è un suicidio quello europeo di andare a tassare. Andiamo negli Stati Uniti. Alla convention repubblicana di Milwaukee, Donald Trump ha accettato la candidatura alla Casa Bianca. ha diverse le promesse nel suo lungo intervento, durato circa un'ora e mezza, riporteremo la pace in America e nel mondo, ha affermato il tycoon e sarò io a riportare in auge il sogno americano. Trump ha poi rilanciato il suo piano per tagliare le tasse e ha annunciato l'intenzione di estendere le trivellazioni petrolifere e completare il muro al confine con il Messico. Sul fronte democratico intanto aumenta il pressing su Joe Biden. Secondo diversi esponenti di punta del partito, il presidente USA potrebbe annunciare il suo ritiro dalla corsa per la rielezione alla Casa Bianca già nel weekend. In poll per sostituirlo, la vice Kamala Harris. Ci spostiamo ora in Medio Oriente, cresce la minaccia degli uti. Nella notte una persona è morta e altre dieci sono rimaste ferite a causa di un attacco con droni lanciato dai ribelli su Tel Aviv. Israele regolerà i conti con chi ci colpisce, ha minacciato il ministro della difesa israeliano Gallant. Intanto continuano gli attacchi uti alle navi mercantili. All'alba una porta container battente a bandiera di Singapore è stata colpita da proiettili al largo del golfo di Aden. Raide che impattano fortemente sul trasporto marittimo si accentua infatti la flessione del traffico navale nel canale di Suez che a maggio ha registrato un crollo del 53,6% anno. Veniamo alla politica interna via libera della Camera con 155 sì, 79 no e 9 astenuti al decreto Salva Casa. Il provvedimento prevede misure in materia di semplificazione edilizia urbanistica, tra le novità il certificato di agibilità ai microappartamenti con la possibilità di procedere al cambio destinazione d'uso con una disciplina uniforme. Il testo ora passa in Senato per l'approvazione definitiva. Commemorazioni in tutta Italia oggi per il 32esimo anniversario della strage di Via D'Amelio in cui il 19 luglio del 1992 perdeva la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. A ricordare il tragico attentato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha dichiarato la verità è un dovere irrinunciabile, ora il testimone è nelle mani di ciascuno di noi. L'impegno civile, anche nelle parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la lotta alla mafia, detto la Premier, è una nostra priorità assoluta. Buone notizie da Automar. Il direttore generale Giuliana Brucato è stata recentemente nominata membro del Consiglio Direttivo di Assi Termina, l'associazione che rappresenta 88 aziende in 32 porti. Si tratta di un importante riconoscimento che sottolinea l'impegno e la leadership dimostrati dalla dottoressa Brucato nel settore della logistica e dei trasporti. Alice continua a crescere. Powi, azienda specializzata nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici, si unisce all'associazione, una collaborazione che nasce dall'esigenza di incentivare la transizione green attraverso l'adozione di veicoli elettrici nel settore dei trasporti e della logistica. Parliamo ora di tecnologia marittima sostenibile. Blue Ferries, società del polo logistica del gruppo FS, ha varato nel porto di Atene Sicania Seconda Hybrid, unità RORO ibrida che consente una riduzione del 50% delle emissioni di CO2 e zero emissioni in porto durante le fasi di arrivo e partenza. Un investimento del valore di 26 milioni. La nuova nave entrerà in esercizio nello stretto di Messina nel 2025, aggiungendosi alle 5 navi che già operano nell'area. Giornata complicata per chi ha viaggiato in treno. Forti disagi sull'alta velocità Firenze-Roma, dove un guasto alla linea elettrica all'altezza di Rozzano ha causato rallentamenti alla circolazione con ritardi fino a 140 minuti e molti collegamenti soppressi che a cascata hanno interessato la mobilità di molte regioni. Il traffico è tornato regolare solamente nel primo pomeriggio. Era questa l'ultima notizia della giornata. Grazie per l'ascolto. Appuntamento a lunedì prossimo. Buon proseguimento di serata. Grazie per la visione.